Tirina all'aperto in centro? È pronta, la firmerò adesso, rientro in comune. Sarà a valere dalla mezzanotte di venerdì, diciamo, dal 0-0 di sabato, fino al 31 dicembre. Riguarderà tutta l'asse dal castello a San Babila. Prendiamo spunto dalle riflessioni che ci ha dato il prefetto. Io credo che sia qualcosa in questo momento di necessario, ma alla fine che non penalizza nessuno. Non è che sia un grande sacripista, siamo tutti abituati, ma in questo momento la prudenza deve tornare ad essere forte.